Ok, eccoci la prossima missione Ottimo Continuo a sognare Continuo a sognare, sfatronza Operazione Firehawk Beh, dove sono questi elicotteri? Hanno delle piattaforme multiple intorno alla zona rossa La prima è in un vecchio porto sulla riva est del fiume Ok, che si trova da quella parte il ruba l'elicottero, ok Ci penso io, non ti preoccupare Eccomi qui Tra l'altro, oh oh, aspetta Allora, prima di inizia la missione Esatto, ho visto dei punti esperienza da prendere Punti esperienza che mi basteranno giusto giusto per salire di livello Vieni qui tu Giratevi Ecco fatto, grazie Perfetto, siamo ancora in missione però Esatto, non possiamo evolverci in mezzo alla gente Vediamo se ora che ci allontaniamo mi fa evolvere o devo aspettare No, devo aspettare O forse... No, devo aspettare proprio Stavo pensando forse basta che entro nel menu Mmm, quale dovrei prendermi? Non lo so, è uguale Sceglierò questo Perfetto Madonna mia, quanti punti bonus per una roba che praticamente dovevo fare a prescindere Kabum Porca troia Che devasto Ad esempio Il tuo Nascondiglio Arrivo Vediamo se lo prendo Ah, di sì Madonna mia Che bomba Ovviamente loro muoiono con un colpo Se vengo colpito io Due o tre colpi li subisco Di sicuro Allora L'idea migliore ovviamente è restare esatto Nascosto in mezzo ai palazzi Più bassi stiamo Più avranno difficoltà anche loro a colpirci Arca troia Tanto la nostra missione non è stare sull'elicottero Nel senso Noi dobbiamo distruggerli Se abbiamo l'elicottero in questo momento è più facile per noi Ciao ciao Addio Minchia quanti danni che abbiamo fatto Pare che abbiamo fatto cento Ti sto inviando la posizione Distruggilo e distruggerai qualsiasi speranza di ridurre in New York Un ammasso di rovine fumanti Fa bene Va bene Kaboom Aspetta Perfetto Allora dov'è 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 il bunker Dovrebbe essere quello Vero Addio al bunker Bravo ragazzo Non dimenticarti degli elicotteri che rimangono Eh ma va Brutta cagna del cazzo Ricorda qual è il tuo posto Ok Meno male che salendo Abbiamo evitato il colpo Kaboom Perfetto Me ne rimangono solo due Dove sei Eccone uno Ce la facciamo No Preso Ne manca solo uno adesso Addio gli elicotteri Stronzo Ecco fatto Sai che ti dico Aspetta un attimo Già che ci siamo Tanto se me lo devono distruggere A me non cambia nulla Tanto lo devo Devo lasciarlo comunque Questo elicottero Voglio dire A me Mi fa solo più comodo Perché così Esatto Distruggevo più roba In un colpo solo Ciao ciao Addio Firehawk E siamo anche saliti di livello Incontrati con la Galloway Però ancora non mi fa evolvere Che palle Eccomi qua Siamo arrivati Su via Per come la vedo io L'ho aiutata E poi l'ho aiutata ancora Mi è debitore Dunque l'è vero Sai che la vede eh Sa che è vero Il punto è Il punto è Andiamo bene insieme Heller James Andiamocene da questo luogo Dimentichi Mercer Potremmo costruire qualcosa di nostro Saremmo una bella squadra Non credi? Certo Non voglio trovarmi tra lei e Mercer E probabilmente Mi prenderei qualcosa Che stronzo Vabbè se è già un virus Peggio di così Non ti può succedere nulla Fra E dovresti sapere Che una donna Col cuore spezzato È più pericolosa Di un mostro Livello 16 Non mi ricordo Quanti livelli Ha questo gioco Onesto Basterebbe guardare Quanti punti hai Quindi ce ne rimangono 8 punti Quindi Livello 24 Sarebbe un po' strano Come numero Vabbè forse Ci sono altri due punti Su mosse finali Non so se prende la salute O il movimento No Sto giro la salute Ecco fatto Un atto d'amore Sarebbe un po' strano Sarebbe un po' strano Sarebbe un po' strano Sarebbe un po' strano Sarebbe un po' strano